Ben ritrovati con Decoder, questa sera ci occupiamo di politica con il commento alle elezioni europee e amministrative. Con noi in studio abbiamo diversi rappresentanti delle principali formazioni politiche. Con noi infatti abbiamo Davide Casati, segretario provinciale del Partito Democratico. Buonasera Casati. Buonasera. Accanto Dario Violi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera Violi. Continuiamo con Paolo Franco, consigliere regionale di Forza Italia. Buonasera. E con noi anche Roberto Nelli, capogruppo della Lega in consiglio regionale. Buonasera. Buonasera. E infine Daniele Zucchinale, segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Buonasera. Ecco allora le elezioni europee sono sicuramente già state anche commentate da trasmissioni bene più autorevoli, ma anche noi comunque sul nostro territorio vogliamo cercare di leggere questo dato con quelle che poi sono anche le ricadute e poi anche in parallelo con quello che è successo anche dei comuni del nostro territorio. Partiamo da Davide Casati. La possibilità di cambiare l'Europa sembra, nonostante poi ci sia stato il trionfo innegabile della Lega e del centro-destra che comunque è in crescita, la possibilità di cambiare l'Europa probabilmente è affidata paradossalmente ai partiti europeisti che invece sul territorio nazionale non sono andati poi così bene. Sì, per come avevamo già detto anche in campagna elettorale era importante anche sostenere ovviamente il Partito Democratico perché sarebbe poi entrato con i propri rappresentanti nelle principali famiglie del Parlamento europeo e così è. E quindi con il 20% che abbiamo preso in provincia di Bergamo e una percentuale leggermente più alta a livello nazionale avremo oggi i nostri principali rappresentanti in Parlamento europeo appunto all'interno del gruppo Socialisti e Democratici che fanno parte della maggioranza in Europa e quindi avranno l'onore e l'onere di provare a cambiare davvero questa Europa in base un po' alle proposte che abbiamo fatto in questa campagna elettorale. Quindi siamo contenti rispetto a un anno fa ovviamente il Partito Democratico fortunatamente ha iniziato un percorso di crescita, di risalita, di crescita, di consenso che ci fa mesperare sempre però con umiltà e testa bassa perché il percorso da fare è sempre ancora lungo e ci siamo però e quindi è importante anche per la nostra provincia avere recuperato consenso rispetto al voto politico del 2018. Dario Icoli questo per il Movimento 5 Stelle è un momento di riflessione? Sì è un momento difficile, è evidente che ci sono stati degli errori e in questi giorni, in queste settimane ne discuteremo, capiremo dove abbiamo sbagliato. Il fatto sta che comunque abbiamo una quindicina di euro parlamentari che porteranno avanti la linea del Movimento 5 Stelle per cambiare l'Europa perché è evidente che cambiarla, chi si propone di cambiarla oggi è il Partito Popolare Europeo, il Partito Socialista Europeo che hanno governato l'Europa negli ultimi 10-15 anni, è evidente che non possono cambiarlo e per fortuna siamo il governo e il governo esprimerà il commissario europeo per l'Italia, ci saranno altri governi che non si rispecchiano nei principali partiti europei che nomineranno dei commissari e quindi ci sarà anche la commissione che farà la contraltare per la volontà dei governi che governano i paesi e quindi magari anche da lì riusciremo a cambiarla l'Europa. Paolo Franco innanzitutto prima facciamo una precisazione sulla sua posizione, l'abbiamo già fatto recentemente ma non diamo per scontato che il nostro pubblico abbia seguito un po' tutti i passaggi recentemente ha lasciato la carica di segretario provinciale di Forza Italia. Sì, diciamo che fino alla fine delle elezioni perché se non c'era un congresso, avevamo stabilito un congresso per il 13 di maggio ma poi non siamo riusciti a effettuarlo, abbiamo fatto un altro evento in fiera, questo era il tema non era un passaggio interno per avere delle persone in più, dare una mano sul territorio rispetto al fatto che non si può essere trini. Mentre per quanto riguarda le europee fuori dubbio la calata del partito che non si deve nascondere che o viene rifondato secondo dei sistemi per cui come sul territorio riusciamo esattamente a fare tre volte tanto il voto politico oppure c'è una situazione che non si può non tacere, tra l'altro il sottoscritto lo fa in modo propositivo da dentro il partito perché faccio parte del gruppo di Forza Italia regionale ma poi mai si sono fatti dei ragionamenti diversi. La logica chiama che quando un partito ad ogni tornata elettorale perde più del 5% c'è qualcosa che è tale. Io sono convinto che la verità stia proprio nel fatto che è un movimento e non è un partito per cui questa cosa qua andrà rifondata. Senza dubbio però troviamo comunque anche nelle modalità di preferenze invece sui candidati pur scendendo il quorum della percentuale ancora un'attenzione, quindi un elettorato che comunque mette ancora la preferenza e che ci tiene. L'abbiamo visto, lo vedremo poi sul ragionamento delle amministrative. Noi siamo non solo in calo, siamo anche nella necessità di stabilire delle regole, cioè noi abbiamo un'idea di dove abbiamo sbagliato cioè non darci delle regole come quelle per cui quando di merito qualcuno se vuole andare a fare il parlamentare deve avere almeno preso 4 preferenze se vuole fare politica in paese deve prendere le preferenze, cose che non sempre sono state e oggi sulla dirigenza paghiamo anche questo scotto. E la posizione in Europa di Forza Italia? La posizione del Partito Popolare sicuramente con una figura come Berlusconi comunque ancora carismatica e quei rapporti che ha sicuramente superirà anche a un risultato che non è stato sicuramente come abbiamo già detto di quelli più aspettati però siamo ancora centrali rispetto a un tema che si va là e non si è anti-europisti a priori ma sicuramente sulla dignità dell'Italia ma siamo stati i primi a dirlo e l'abbiamo anche pagato perché esattamente più di 5-6 anni fa è stato destituito di fatto dall'Europa Berlusconi. Passiamo alla Lega. La Lega probabilmente arriva in un momento in cui può cercare di riportare questo risultato anche in quella che è la logica nazionale quindi far pesare un po' questo grande consenso raccolto alle europee anche se sembra che Salvini almeno nei primi commenti sia più indirizzato a accelerare su quelli che sono i temi aperti piuttosto che fare gioco forza con il voto, giusto? Assolutamente sì, Salvini l'ha ribadito più volte, questo governo deve andare avanti è ovvio che c'è un contratto da rispettare, nel contratto c'è quello che per noi è il punto di riferimento che è l'autonomia della Lombardia e del Veneto e dell'Emilia Romagna lo porteranno nei prossimi consigli ai ministri e ci auguriamo che questo vada avanti. Non si vuole assolutamente far pesare a livello italiano, quindi a livello governativo il peso di questa tornata europea come non si vuole far pesare in nessune altre situazioni né a livello regionale, questo va a smentire quello che dicevano ci interessa le poltrone non ci interessa le poltrone, ci interessa fare le cose che avevamo in passato contrattato con il Movimento 5 Stelle per cui non vedo da parte nostra una richiesta di maggiore poltrone, maggiore autonomia nella gestione chiediamo solo che venga rispettato il contratto. Certo che se ci fossero le elezioni politiche a breve, una situazione come questa potrebbe ribaldare un po' la situazione anche in termini di alleanza. Sì, guardi che comunque l'elettorato in questi ultimi anni ci ha dimostrato che è molto fluttuante per cui un partito che aveva il 40% l'anno prima perde il 20% l'anno dopo. Noi dobbiamo continuare a lavorare e ben lavorare come sta facendo la Lega a livello governativo ma dobbiamo continuare a lavorare bene anche a livello amministrativo nei piccoli comuni, nei medi e nelle grandi città. Zucchinali, per Fratelli d'Italia questa potrebbe essere la rampa di lancio? Ovvero passare dal 4 al 6 è un po' superare quella soglia che mette un po' in discussione il voto a un partito che può essere classificato come, stando ad esempio sotto il 4% o intorno al 4% come voto inutile. Quindi potrebbe essere il momento in cui un partito potrebbe andare all'incasso all'interno del centro-destra in un momento in cui c'è qualche spazio. Assolutamente sì. Il superamento della soglia, il sparamento fissato al 4% per la prima volta permette a Fratelli d'Italia di entrare nel Parlamento. 5 anni fa avevamo solamente sfiorato questo risultato, avevamo un partito appena nato, dopo 5 anni di lavoro sia sui territori sia nelle istituzioni regionali e nazionali, Fratelli d'Italia arriva al 6%, addirittura in Bergamo città il 6,6%. Ci qualifichiamo quindi come una forza pesante, potente all'interno del centro-destra, un partito che supera quel pregiudizio del voto cosiddetto inutile e che anzi si prepara adesso ad allargarsi ulteriormente. Con una presenza di numerosi europarlamentari, due eletti nel collegio che comprende anche Bergamo, Carlo Fidanza e Pietro Fiocchi, ci prestiamo ad entrare nella famiglia della cosiddetta ECR, quindi conservatori riformisti europei. Una famiglia che comprende anche Stato, rappresentanti dei paesi del nord, che vede un'Europa diversa, un'Europa che lascia più spazio ai paesi sovrani, ai paesi nazionali, che venga regolata da un principio di sussidiarietà per cui l'Europa interviene solo dove è strettamente necessario, lasciando ampi immagini ai paesi di governare le proprie popolazioni. Fratelli Italia in questo si impegna a portare avanti le istanze degli italiani e per questo il nostro slogan era in Europa per cambiare tutto, è quello che faranno i nostri rappresentanti. E si è dimostrata anche la possibilità di una nuova alleanza, di una nuova possibile maggioranza del nostro paese insieme alla Lega? Sicuramente Giorgio Meloni ha rilasciato dichiarazioni di ampia disponibilità e di ampia apertura. È chiaro che gli accordi poi vanno fatti in due, in tre e in quattro a livello nazionale. Sicuramente le sinergie e i punti di intesa tra Lega e Fratelli Italia in questo momento sono chiari. Fratelli Italia si presenta con l'ambizione di diventare la seconda forza del centro-destra cercando di raccogliere anche le persone, le personalità soprattutto, che vogliono trovare una nuova casa e che vogliono lanciare un nuovo percorso politico. Noi ci siamo, vediamo se nel breve, nel medio o nel lungo periodo a livello nazionale potrà veramente cambiare qualcosa. Casati, nella vostra analisi cosa ha spinto così tanto la Lega? Sicuramente è un po' di anni ormai che il trend è quello di votare spesso le persone ed è evidente ed è innegabile che oggi Matteo Salvini rappresenta la leadership nazionale che attira più consenso perché dà con il suo messaggio e il suo linguaggio più certezze, almeno in apparenza ovviamente. E quindi sicuramente la Lega oggi incassa una leadership che oggi è ancora forte. Cosa che era successa al Partito Democratico cinque anni fa con Matteo Renzi andando a prendere più del 40% a livello nazionale e quindi ormai l'elettorato sempre di più vota le leadership e vota le persone. Questo prima veniva solo a livello comunale, poi ne parleremo, ma oggi questo trend si sta spostando anche sul livello sovralocale. Quindi penso che sia quello. Poi il problema è far seguire le parole ai fatti, i fatti alle parole e quindi sono convinto che la retorica che spesso in questi mesi abbiamo sentito poi non si stia traducendo in azioni concrete. Quindi tra qualche anno il rischio è che questa bolla di sapone esploda a favore e speriamo di altri partiti come il nostro. Che nonostante questa crescita della Lega però il PD a livello nazionale è cresciuto, ha aumentato di 4 punti percentuali rispetto all'anno scorso e anche a Bergamo, Bergamo-Città abbiamo superato il 30% e in provincia abbiamo superato il 20% e quindi siamo davvero contenti però siamo all'inizio di un lungo percorso di rinnovamento e di rafforzamento del PD in tutta la provincia. Violi, l'Unione Europea nonostante gli sforzi comunicativi spesso trasmette un'immagine di un'agida burocrazia quindi resta sempre un po' questo distacco da una realtà ovviamente anche geograficamente molto distante da noi ma spesso distante dalle persone quindi forse è un po' anche questo il tema che ha spinto anche nelle europee la Lega. Sì, io penso che l'Unione Europea ha dato dimostrazione di essere distante in questi anni bisogna anche dire, fare mia colpa, che l'Unione Europea siamo noi perché qualcuno mandiamo in Parlamento Europeo ci sta da anni, qualcuno ci sta da decenni e non sappiamo bene cosa facciano e quanto contino a livello europeo abbiamo mandato anche un commissario europeo non ultimo il commissario che abbiamo agli affari esteri che conta poco o nulla e che poco o nulla ha fatto all'interno della Commissione per difendere gli interessi dell'Italia. Io penso che quando noi vediamo la Merkel, vediamo i francesi vediamo altre realtà dove sono stati in grado di far valere le proprie ragioni dovremmo imparare a seguire quel modello quindi non ce l'ho con i tedeschi che sono bravi a difendere i loro interessi dovremmo farlo anche noi invece di continuare a urlare a questo europeismo che viene venduto come un sogno ma che poi spesso si traduce come uno svantaggio con aziende italiane che delocalizzano in Polonia con fondi europei pagati con i soldi italiani con tutte queste dinamiche che dovrebbero un giorno finire ma se non mandiamo rappresentanti che hanno interesse a fare queste cose è evidente che noi subiremo sempre solo svantaggi da quest'Unione Europea. Non ultimo penso al tema delle nostre banche di credito cooperativo noi ne siamo pieni nel nostro territorio le sparcasse tedesche che sono molto simili che sono quelle che finanziano il territorio sono state esentate dalle regole comuni e comunitarie di Basilea perché hanno una dimensione piccola, perché non possono rispondere e le nostre sono state obbligate a fondersi e diventare grandi gruppi che non rispondono più alle esigenze delle imprese nel nostro territorio non finanziano le imprese, lo sviluppo, il lavoro ed è evidente che i tedeschi sono stati bravi a dire questo nostro modello non può rispondere a regole ad altre regole che non siano le nostre e noi invece abbiamo accettato di tutto abbiamo accettato che la ricchezza del nostro territorio si trasferisse poi altrove in fondi internazionali che poi non hanno interesse a investire qua. Paolo Franco? E' una storia scritta quando eravamo nel nostro gruppo di Forza Italia più di una volta anche nei semestri che abbiamo gestito abbiamo insistito su questi aspetti cioè sul fatto di difendere la nazione dentro un tema che era quello europeo per far questo bisogna fare delle alleanze bisogna decidere le alleanze e tutelare gli interessi e riconosco anch'io che su chi poi è là eletto dentro una dinamica di questo tipo perché noi siamo abituati a quelle nostre nazionali di Parlamento devi avere una visione che non è quella della tattica ma quella della strategia oggi come oggi sappiamo che la maggior parte delle normative italiane sono di declinazione europea quindi non c'è solo un argomento di tutela rispetto ai legittimi interessi ma quello anche di difendere le lobby dentro delle dinamiche importanti perché se oggi delle normative che inseriscono in ambiti tecnici vengono a determinare il futuro di un'azienda ed è più avvantaggiata perché quel comparto ce l'ha un'altra nazione noi abbiamo perso questo è un argomento che è fondamentale e noi dobbiamo riprenderlo anche dentro le norme tecniche dei nostri parlamenti Ecco, noi ora ci fermiamo per una breve interruzione torniamo subito, tra poco Riprendiamo, ora ci spostiamo alle amministrative tenendo sempre in considerazione anche i risultati alle europee ripartiamo da Roberto Anelli capogruppo della Lega in consiglio regionale è in dubbio che anche sul nostro territorio si è visto l'importante risultato della Lega ovviamente poi entrando nel dettaglio nel merito di tante situazioni non sempre si è vinto proprio dappertutto poi li contano anche le persone le situazioni Assolutamente sì nelle amministrative ma è sempre stato così non c'è una ricaduta precisa di quello che sono le politiche o le europee perché soprattutto nei nostri comuni nei comuni piccoli contano molto le persone il lavoro che hanno fatto e quindi le conoscenze anche sta di fatto che ovviamente non c'è stata questa ricaduta perché altrimenti avremmo vinto su tutti i comuni della provincia di Bergamo così non è stato la gente premia ovviamente il buon lavoro soprattutto fatto nelle passate amministrazioni come abbiamo avuto per esempio la riconferma di comuni importanti quali Albino, quali Icene e via dicendo in altri comuni siamo andati in alleanze in liste civiche quindi mettendo dei giovani che in questo momento quindi si formano per creare proprio quella classe poi amministrativa futura diciamo che nel complesso siamo soddisfatti nota dolente non dico che lo sapevamo ma lo potevamo prevedere è la città di Bergamo dove visto considerato il gap che c'è stato tra il candidato Gori e il nostro candidato vuol dire che Gori in Bergamo ha lavorato bene bisogna dargliene atto a questo punto perché se la gente lo premia la gente vuol dire che ha riconosciuto nel sindaco Gori le sue capacità potevamo tentare forse di arrivare al ballottaggio la nostra campagna elettorale è stata breve però questa non è una giustificazione per cui merito a tutti voglio nel contempo ringraziare però tutti coloro che si sono candidati a questa tornata amministrativa chi ha vinto e chi ha perso perché vuol dire che si sono messi in gioco per i cittadini in modo tale che i cittadini abbiano potuto esprimere la loro volontà le loro preferenze ci sono alcuni paesi che abbiamo perso per pochissime decine di voti però veramente grazie di cuore a tutti questi e poi permettetemi un grazie di cuore ai nostri militanti ai nostri sostenitori che in questa campagna elettorale hanno fatto migliaia di gazebi e onestamente neanche con un tempo molto favorevole visto che non si sa come è mai ma tutte le volte che ci sono elezioni amministrative o politiche il tempo è bruttissimo eccoci da dire che la Lega ha presentato spesso il simbolo in molti comuni quindi una presenza davvero capitale un po' dappertutto assolutamente sì noi non è che disdeniamo le liste civiche anzi ci mancherebbe altro in alcuni casi siamo in liste civiche ma là dove abbiamo le persone da poter inserire preferiamo andare alle amministrative con il nostro simbolo ben chiaro in modo che la gente capisca chi sta votando con Daniele Zucchinali riprendiamo un po' anche la situazione di Bergamo ovviamente lì conta anche la tempistica forse è arrivata un po' tardi anche la candidatura di Stucchi sicuramente sì sicuramente la campagna elettorale condotta dal centro-destra ha pagato un forte ritardo un ritardo più che una colpa del singolo candidato un ritardo imputabile prevalentemente alle segreterie regionelle nazionali posto che la scelta del candidato sindaco del capoluogo era collegata alla scelta dei sindaci anche di altre città pensiamo a Pavia pensiamo a Cremona pensiamo comunque a un tavolo nazionale in cui i partiti hanno dovuto ovviamente selezionare quali e quanti candidati presentare questo ritardo delle segreterie ha imposto di fatto a Stucchi di correre all'ultimo minuto e alla coalizione di centro-destra di andare alla rincorsa di un sindaco Gori che ha saputo però così ribaltare quelli che erano i voti delle europee quindi a lui le nostre congratulazioni i nostri auguri di buon lavoro fermo che l'opposizione in consiglio comunale sarà un'opposizione molto severa esprimete soddisfazione invece per quanto è successo Onore? Molta soddisfazione per quanto è successo Onore qui abbiamo la rappresentazione di quello che diceva poco fa Anelli quindi si vota nei comuni si vota prevalentemente la persona a prescindere anche da quelle che possono essere le appartenenze politiche come Fratelli d'Italia abbiamo preferito correre puntando sulle persone lasciando da parte il simbolo e presentandoci all'interno di liste civiche sempre mantenendo ben chiara quella che era l'appartenenza politica dei singoli candidati però cercando di aggregare quanto più persone quanto più sensibilità diverse l'esempio di Michele Schiavi è un esempio quasi scolastico un bravissimo ragazzo che si è saputo imporre all'interno del proprio comune per quelle che erano le proprie doti personali e non solo e non tanto per quelle che erano le appartenenze politiche ha creato una bellissima squadra ed è diventato il sindaco vediamo sui giornali in questi giorni il sindaco più giovane d'Italia sicuramente mi auguro in questi cinque anni si sapeva conquistare anche il titolo di sindaco più bravo d'Italia che è quello che ci interessa di più che voi rivendicate sempre come segretario locale segretario della Valseriana di Fratelli d'Italia continuiamo con Davide Casati quindi già qualcosa su Bergamo abbiamo detto anche poco fa comunque possiamo anche riprendere anche relazione a quanto hanno detto i colleghi noi siamo ovviamente molto soddisfatti molto contenti per tradizione come PD non la scelta nei comuni non dipende dalle segreterie né nazionali né regionali c'è un lavoro fatto con i militanti dei cento circoli che abbiamo distribuito in tutta la provincia e quindi all'interno di fatto di tutte le liste civiche o delle liste con logo PD ci siamo e siamo contenti perché di fatto siamo riusciti a riconfermare quasi tutti i sindaci uscenti a dimostrazione che in questi cinque anni hanno lavorato positivamente la riconferma del sindaco Gori è il risultato più importante ovviamente che otteniamo in questa tornata amministrativa ma soprattutto siamo riusciti a vincere in alcuni comuni in cui abbiamo fatto posizione in questi anni penso a Verdello penso a Stezzano e penso a tanti altri a dosi o sotto in cui abbiamo confermato la nostra lista uscente insomma abbiamo vinto in tanti comuni a dimostrazione che le persone del PD fanno la differenza il radicamento nel territorio con 2500 militanti distribuiti in cento circoli è importante e le persone vengono premiate e anche il buon lavoro questa cosa penso che sia fondamentale le persone vengono guardate per come stanno tra la gente per le cose che fanno per l'empatia che riescono a ottenere quelle proprie comunità e il Partito Democratico da questo punto di vista insieme ai propri circoli alle liste civiche è davvero contento del risultato che abbiamo ottenuto lunedì abbiamo ribaltato il risultato delle europee a dimostrazione che le persone sono state apprezzate e dobbiamo partire da lì il messaggio che arriva al PD nazionale è che a Bergamo c'è una classe dirigente di giovani amministratori capace che è stata premiata e che può dire la sua anche a livelli superiori Lario Violi Sì noi ci presentavamo in pochi comuni in realtà perché noi ci presentiamo col simbolo il risultato non è stato sicuramente quello sperato nonostante sapevamo che non avremmo fatto un gran risultato questo è dimostrazione che forse bisogna rivedere la politica vera la politica locale io ho anni che combatto all'interno del movimento su questo la politica si fa non tanto facendo riunioncine settimanali di gruppo di sezione ma lavorando sul territorio facendo facendo i volontari lavorando nelle associazioni coinvolgendo il territorio e chi lo anima veramente e poi lo si vede soprattutto quando si prendono le preferenze non tanto sul voto di lista ma sulle preferenze quindi un maggior radicamento serve è un'analisi che stiamo facendo e soprattutto serve anche un po' di umiltà e anche capire che laddove ci sono delle opportunità di governare in civiche dove ci si confronta tutti si vince penso che è il caso di Stezzano per quanto noi non ci siamo presentati col simbolo e non abbiamo sostenuto col simbolo la lista Stezzano Futura abbiamo avuto diversi militanti che hanno scelto di non presentarsi di lavorare a una civica e a un modello differente e hanno avuto ragione sia come risultato finale e sia anche come risultati personali quindi forse anche da queste esperienze dovremmo imparare che non è necessario presentarsi ripeto io lo sostengo da anni e continuo a sostenerlo e anche nelle discussioni interne di questi giorni lo sto facendo dove ci sono realtà civiche vere che vivono il territorio anche senso riconoscere quelle non andare magari a fare figuracce con il 5% dove non serve ma lavorare con chi lavora sul territorio e cambiarlo da dentro il territorio quindi forse anche una questione di logica organizzativa sui territori ma la questione di attivare dei circoli noi siamo una forza abbastanza giovane che è cresciuta molto a livello nazionale ha fatto fatica a livello locale perché ha cercato purtroppo troppo spesso di riportare un modello nazionale fatto di comunicazione proposte e utilizzo di un brand anche a livello locale è evidente e la storia delle elezioni locali ce lo insegna non oggi ma ce lo insegna da sempre che a livello locale si votano le persone e non i simboli penso che tanti sindaci che sono stati riconfermati in controtendenze in comuni dove magari la Lega ha preso più del 50% e poi magari non ha vinto col simbolo perché si è votato la persona in comuni come quello di Davide dove nessuno poi ha osato sfidarlo evidentemente si è votato la persona e tutti hanno riconosciuto il buon lavoro di Davide indipendentemente dal fatto che rappresenta il Partito Democratico a livello provinciale forse da queste situazioni bisognerebbe fare un'analisi e capire che la politica locale ha logiche differenti che sono poi le logiche della politica vera Ecco quando vanno al rinnovo così tante amministrazioni poi possono anche cambiare gli equilibri all'interno di alcuni enti di secondo livello Paolo Franco prevede qualche spostamento qualche cambiamento ma io anche in relazione a quello che è il bilancio di Forza Italia Ad oggi quello che mi sento di dire come hanno detto altri miei colleghi è che si raccoglie ciò che si semina nei 5 anni di amministrazione e per chi magari ha anche seminato con l'attenzione di divulgare ai propri cittadini perché molte volte l'amministratore poi si mette in comune lavora per i propri cittadini molte volte non sempre percepito da tutti però a questa tornata elettorale è una delle soddisfazioni che abbiamo perché rispetto al tema delle europee l'eradicamento territoriale di questa comunità è elevato sia non solo in Val Seriana ma in tutta la Bergamasca perché abbiamo implementato anche il numero dei sindaci e là dove abbiamo avuto anche alleanze importanti con il nostro alleato principale come regione con la Lega posso citare Albino perché è un conto riconfermarsi un conto riconfermarsi al 70% così come in altri territori e in altre realtà proprio locali anche diciamo dove con la Lega sono sempre questioni locali non si sono andati d'accordo noi comunque siamo riusciti a fare il sindaco a Fimberto a Colzate o altre ancora allora il ragionamento oggi è quello che dicono tutti quanti il cittadino guarda a chi lo amministra nella misura in cui ha anche un'attenzione a questa comunità e l'investimento di questi amministratori è nella loro continuità ha ragione Anelli quando dice oggi sui giovani che devono imparare all'approccio sistematico a questa passione perché troppo spesso pagano il fatto tutti di questi ultimi anni per cui chi si impegna per la politica è per forza un ladro che lo fa perché sa quale motivo va demonizzata perché altrimenti i nostri comuni le nostre comunità non c'è più gente che continua a candidarsi e se non c'è una gente del territorio chi è che tutela quell'amministrazione Ecco ricordiamo sempre anche il dato di due comuni che attendono un commissario ecco prego su questa cosa qua si paga anche lo scotto molte volte che quando poi si arriva da fuori ad amministrare il paese il paese si sede diciamo lascia l'amministrazione del proprio del proprio comune ad altri e poi non si riappassiona più in quei cinque anni queste sono le cose che poi possono succedere la questione vera è una io quest'anno ho notato che almeno in certi paesi in controtendenza le liste ci sono state perché mi ricordo Vertova cinque anni fa era una monolista paese di 5.000 abitanti ecco poi i casi di autorevolezza e di sovranità massima come quella del Davide sono eccezioni ma proprio perché sono rappresentate come dicevamo prima tutte le anime io quello che posso dire è che per quanto riguarda Forza Italia per quanto riguarda il comparto bergamasco amministrativo avere con la situazione delle urne che avevamo nelle europee pensare di implementare il numero degli amministratori e il numero dei sindaci significa che abbiamo lavorato abbiamo tenuto un radicamento vicino ragione Dario se non seguono le attività dei comuni è difficile farle e ho fatto per anni tanti anni fa si facevano le riunioni settimanali di area ma se non le fai con chi è consigliere che poi da minoranza diventa maggioranza che si impegna per la gente è difficile che poi la gente si ricordi e poi un'altra cosa che ho da sottolineare di soddisfazione è che non solo ho implementato il numero dei sindaci a quasi 44 da 30 perché avevamo però i numeri delle persone nelle liste io ho persone che si cambiano la prima volta come a Lover che prendono gli stessi voti del sindaco uscente oltre 240 preferenze oltre 150 a Castelli Calepio 450 anche in paesi dove vuol dire che la persona la conosce perché guardate che la cosa più difficile è far iscrivere il proprio cognome per cui questa cosa qua ci dà motivo importante di esportare il laboratorio politico bergamasco anche a livelli regionali nazionali come avevo detto prima il merito è il consenso per cui non c'è una cosa diversa ecco siamo proprio agli ultimissimi minuti un commento di un minuto ancora Danelia Zucchinali anche magari sempre così cercando di capire se cambierà qualcosa anche a qualche ente sovralocale penso la comunità montana torno a ripetere siccome non interessa le poltrone ma interessa i risultati al momento nemmeno abbiamo pensato cosa potrà cambiare negli enti superiori per cui questo lo vedremo dopo e lo vedranno i sindaci soprattutto vorrei fare una precisazione dicendo che siccome prima abbiamo detto che non sempre un consenso a livello politico europeo quindi ha la ricaduta sugli amministratori voglio ricordare comunque che noi in regione Lombardia prima di questa tornata avevamo tra sindaci e quindi amministrazioni 170 siamo passati a 240 e di questi 170 avevamo 80 sindaci oggi siamo a 120 per cui in qualche modo una ricaduta c'è stata anche se poi effettivamente bravi i sindaci e gli amministratori che si sono riconfermati Zucchinali Sì anche noi non abbiamo ancora messo sul tavolo nessun ragionamento per quanto riguarda gli organismi sovraccomunali ma questo anche per una scelta politica perché il partito per come lo vediamo noi è uno strumento a servizio della politica e della democrazia il partito deve accompagnare i cittadini i candidati nella campagna elettorale li deve accompagnare all'interno le istituzioni ma il partito si deve fermare sulla porta delle istituzioni quando poi si viene eletti si rappresentano i cittadini saranno quindi i sindaci a trovarsi a confrontarsi eventualmente a chiedere il nostro parere se vorranno però le scelte sovrane sono scelte di sindaci che le faranno nell'interesse dei cittadini non nell'interesse delle segreterie politiche Ok noi ci fermiamo qui con la politica dopo l'interruzione cambieremo argomento e ci occuperemo dell'Università degli Studi di Bergamo in particolare del corso di scienze di formazione primaria Grazie a tra poco Grazie